Ma ora fammi capire, quindi come fate ad allenarvi insieme? È come trovare una sorta di equilibrio, no? Cioè tu riesci un po' ad effatitare e a equilibrarti in base anche ai suoi tempi. Come vedi, sto eseguendo degli esercizi che il coach Andrea Gabba della Federazione Italiana Andrea ha detto di eseguire per la capacità di corsa, quindi nel podismo viene eseguito un esercizio che è molto lento, questa si chiama rullata ed è adeguata alla velocità di rotta di questo walking bike. Pertanto non è che io corro in pista e mi dimentico del mio compagno degli allenamenti. Cioè tu corri con Raffaele e riuscite a trovare un equilibrio insieme, per riuscire ad andarvi insieme. Ma Raffaele volevo sapere di te qual è la sensazione nell'utilizzare una walking bike? Libertà. Perché prima invece come facevi? E quindi non potevi fare assolutamente nulla senza la walking bike durante la corsa? Sì, sempre finito. E adesso invece ti senti di aver ripreso, diciamo, in mano alla situazione, ti senti più protagonista? Certo. E la questione del punto di vista che è cambiato, cioè guardare il mondo dal basso e poi l'improvviso frontalmente mentre ti muovi, che sensazione è? Bellissimo. Libertà, Libertà. Mauro, mi racconti invece per che cosa vi state preparando adesso? Perché so che tra poco inizierete, dopo lo racconteremo ancora meglio, ma proprio un tour di tutta Italia. Sì, gireremo in Italia di 50 tappe dove associazioni come la nostra potremmo provare questo metodo sperimentale nel triathlon e nelle discipline di nuoto ciclismo e corsa. Noi porteremo nella sperimentazione di questa nostra idea di integrazione e di sport solidale. E il giro si chiama Più giri, Più giri. Perretto è il nostro motto. È il nostro motto che è diventato un giro in Italia dove tanti Raffaele e tanti Mauro potranno partecipare semplicemente dando ospitalità ad un testimonial che si chiama Sara Rubatto. Ed è una ragazza che pedalerà ogni 100 km con la sua cardiopatia, il suo essere diabetica, lo dimenticherà per 100 km e ogni 100 km seguirà una tappa. Questa tappa si fermerà come un furgone che la seguirà e dei mezzi come questi che saranno adatti a chi ha disabilità o difficoltà problematiche fisiche potranno utilizzare queste attrezzature nelle loro città semplicemente uscendo una notte di ospitalità. E' una forma di pellegrinaggio. E' uscire dal Covid con il rispetto del nostro amore per lo sport e per gli esseri umani. E' mettere in pratica la solidarietà. Quello che contraddistingue queste idee, credo che sia quella. Contraddistingue la solidarietà a questo giro. E' trovare persone sensibili.